Ciao a tutti, avendo fatto il coffee book tag mi sono chiesto ma esisterà il tea book tag? Cioè io sono un appassionato di tè, me ne bevo 5 al giorno, una cosa assurda, senza zucchero tra l'altro, è bandito E voi mi direte what the fuck? Eh sì E allora l'ho cercato e mi sono emozionato a sapere che ovviamente esisteva già, altrimenti l'avrei inventato io Però l'ho trovato su un blog letterario inglese che si chiama Nerdy Talks Book Blog Link l'ho trovato in descrizione e sono 10 domande a tematica teina diciamo e iniziamo subito La prima domanda, la prima particolarità di tè letterario è Earl Grey al double bergamotto, un libro ricco, profondo, intellettuale Io direi Memorie di una ragazza per bene di Simone de Beauvoir È un libro denso, ricco di tematiche, approfondimenti, ricco di vita, di emozione Si parla di crescita, si parla di femminismo, si parla di fede, del rapporto con la fede, cultura Si parla della società francese dell'epoca È un libro figlio del suo tempo, ma allo stesso tempo Allo stesso tempo, figlio del tempo, allo stesso tempo Ma allo stesso tempo è estremamente attuale Scritto da Dio, con una scrittura straordinaria Ve ne ho già parlato, però vi tampino finché non lo leggete Capolavoro straordinario Il secondo tè è Un tè ricco Un libro sul quale ritorni spesso Che banalità queste risposte È la nausea di Sartre Ogni tanto me lo leggo qualche passaggino È un libro preferito in assoluto, come ben alcuni di voi sapranno E ogni tanto non lo rileggerei mai per intero Ma molto spesso torno a leggerne dei passaggi Oppure apro proprio a caso il libro e leggo la pagina che mi è arrivata Quindi sì, è un tè decisamente ricco Ma sempre Simone de Beauvoir Sartre Che palle, Matteo Ma vivi un po' Per fortuna che c'è il tè al limone Vediamo se fa al caso nostro Allora, un libro talmente veloce Che è finito prima di averne assaporato Le pagine Allora Non è una risposta completamente adeguata Perché secondo me una forza Di questi Dei romanzi di questo scrittore È proprio la brevità Perché sono storie Compensate nel ritmo Nelle pagine corrette Che servono allo scrittore E io direi in generale I romanzi di Alan Bennett È uno scrittore inglese Che a me piace molto Uno scrittore molto ironico Perfetto per quando volete ridere Ma con intelligenza Un umorismo molto british Sottile Quindi deve piacervi quel tipo di umorismo lì Non sguaiato Sono delle storie assurde Ma neanche troppo Perché fanno riflettere su tematiche contemporanee molto importanti E i suoi libri raramente superano le cento pagine Ma sono dei libri che finiscono troppo in fretta purtroppo Nel senso che avendo cento pagine divertendoti Convolgendoti Si prendono l'arco di lettura Di un mezz'ora o un'oretta E ne vorresti ancora di più Però allo stesso tempo è bene che siano così brevi Perché la durata effettiva è funzionale al romanzo raccontato Se volete leggere qualcosa di Alan Bennett Vi consiglio tre romanzi che mi sono piaciuti molto Che sono La Sovrana Lettrice Nudi e Crudi E La Cerimonia del Massaggio Divertentissimi Soprattutto La Cerimonia del Massaggio mi è piaciuto tantissimo Una sorta di Festen Di Thomas Winterberg In letteratura Quest'idea del funerale super mondano e fashion Adorabile Quarto Quarto tè Una camomilla alla lavanda Una lettura della buonanotte Rilassante Calmante Vediamo Una lettura rilassante Quindi molto pacata Devo prendere Devo prendere ausilio dalla mia libreria No Ce l'ho Secondo me è una letteratura perfetta della buonanotte Per quanto le tematiche possono essere anche un po' pesantucce In realtà a livello di scrittura Scorre bene E leggiadro Io vi consiglio Le Vergini Suicide Di Jeffrey Eugenide Eugenide Non mi ricordo come si pronuncia il cognome Non mi ricordo anche come è scritto il cognome Bene Comunque un romanzo da cui Sofia Coppola ha tratto il film Il Giardino delle Vergini Suicide Secondo me è un libro molto delicato Perfetto per una buona notte Per leggere due paginette prima di addormentarsi Super consigliato Lady Grey Un classico perfetto per una mattina Invernale Vediamo Un classico perfetto per una mattina invernale Beh io mi viene da raccontare Mi viene da dirvi Memorie dal sottosuolo di Dostoevsky Un libro che proprio mi fa venire in mente queste cantine Illuminate semplicemente da quelle Da lanterne Questo buio soffocante È un viaggio all'interno dell'inconscio E secondo me è perfetto da leggere Proprio nelle mattine invernali Dove c'è un sacco di neve Le mattine d'inverno Sono fatte apposta per i classici russi Che che se ne dica Arancia Un libro molto popolare Che hanno letto quasi tutti E che dovrei aver letto pure io Quindi Vediamo Vediamo Che però mi è piaciuto Spero Vediamo Un libro popolare Che hanno letto quasi tutti E che a me è piaciuto Cazzo è difficile questa Vediamo Però non deve essere un classico Cioè deve essere proprio un libro pop Dio santo Aiuto Aiutami tu A me verrebbe da dire Niccolò Ammaniti Ma non so quanti l'abbiano letto tutti Quanti l'abbiano effettivamente letto Cioè tutti dicono Io non ho paura Ma è quello che mi è piaciuto di meno Di Ammaniti Direi Ti prendo E ti porto via Di Ammaniti Che mi è piaciuto abbastanza Il mio preferito resterà per sempre Che la festa cominci A pari merito con No Un gradino sotto Cioè come Dio comanda Anche quello gran bel romanzo Bello bello English Breakfast Un classico In lingua inglese A me verrebbe da dire Così su due piedi Proprio il primo classico inglese Che mi viene in mente Che mi è piaciuto Per quanto sia una risposta Estremamente banale In lingua inglese Perché l'ho anche letto In lingua inglese Animal Farm Di George Orwell La fattoria degli animali Una lettura che proprio Al di là delle interpretazioni Che ne puoi fare Dell'importanza storica Delle varie chiavi di lettura Secondo me È la classico La classica storia Che possono leggere Tutti A qualsiasi età Ovviamente L'interpretazione Varia In base Agli studi All'istruzione Alla coscienza Di quello che vuole Chiaramente dire l'opera Ma secondo me A livello di classico Che poi classico Moderno Se vogliamo È È È un'ottima lettura Sicuramente Alla portata di tutti Canadian Breakfast Un libro Anglofono Ma non British Perché in realtà Quella prima English Breakfast Era Penso che si riferisse Ai classici British No ma io no Io sono Alternative E quindi Canadian Breakfast Un libro Anche non classico Anglofono Ma non British Mi viene da dirvi Meno di zero Di British Tonellis Che ve l'avrò consigliato Non so quante volte Ma Merita Merita davvero Tè verde Un libro sano Per la mente Quindi è un libro Che magari può essere Anche difficoltoso Da leggere Ma che allo stesso tempo Ti rinnova Lo spirito Beh a me viene da dire Assolutamente Il libro più zen In assoluto Cioè quello che viene in mente Per primo È Siddhartha Di Hermanesse Bellissimo Scritto in punta di piedi È un classico libro Che dovrebbero leggere tutti Almeno una volta nella vita Andrebbe letto Io l'ho letto Dopo che Me l'hanno Consigliato Un mio amico Svariate volte Io ho accettato il consiglio Anche perché si tratta Di un classico È un cult Se vogliamo E l'ho adorato Bellissimo È proprio Ti senti rigenerato Quando lo finisci È Cioè crea Un'atmosfera Veramente Meravigliosa Oppure un libro Sano per la mente Anche il giardino Anche il giardino dei finzi Contini Secondo me Perché al di là Della bellissima storia È proprio la scrittura Bassani Secondo me Scrive in un tono Etereo Bellissimo Antico Ma allo stesso tempo Attuale E a me è piaciuto tantissimo Quel libro Veramente Veramente Bello Tè freddo Un libro Perfetto Per l'estate Quindi un libro Non scemo Ma allo stesso tempo Cacciarone Allo stesso tempo Divertente Io vi consiglio Di nuovo Niccolò Maniti Ma questa volta Che la festa cominci Il mio preferito Oppure Ve ne ho già parlato In una recensione Apposita Ma un libro Molto divertente È Romanzo Rosa Di Stefania Bertola Una perfetta lettura Per quando volete Intrattenimento intelligente E niente I tè letterari Sono finiti Fate questo book tag Che è molto divertente Io vi saluto E alla prossima Ciao ciao